Il messaggio di oggi non è tanto per i matrimoni e cosa fare dopo che ti sei sposato, perché dopo che ti sei sposato c'è solo una cosa da fare, ti prendi cura del coniuge, è il tuo dovere, è la tua missione. Però questo messaggio di oggi è prima di tutto stare attenti prima di sposarti, di chi ti innamori, a cosa dai il tuo cuore, a chi dai il tuo cuore, attenzione perché quella cosa o quella persona ha alcuni spiriti che poi influenzeranno la tua vita. Spiriti che tu li sposi. Quando ti sposi con una persona che sia posseduta del diavolo o che lo sarà domani o che sia piena dello spirito santo, stai sposando quello spirito di Dio in lui o del diavolo in lui. Ti sei sposato prima di sposare col suo spirito e poi con la carne. E lo so che le relazioni di amore sono una cosa bellissima in questa vita, sono veramente cose divine dal cielo, credo che questo amore è creato da Dio. Essere innamorato, relazioni di amore, viene da Dio. Però grande attenzione di chi ci innamoriamo perché anche persone che si sono amati follemente, si sono sposati, come i miei genitori, mia madre, mio padre, si sono amati tanto. Mio padre dopo un po' di anni è diventato alcolico e per i prossimi 40 anni è stato un matrimonio molto difficile. E' stato violento anche. Anche violento. Per mia mamma è stato difficile. Quindi non è garantito che una grande relazione di amore, tanta passione ti porterà a un matrimonio di sogno. Non è garantito. Se non è basato in Cristo, se entrambi non siete radicati fortemente in Cristo, non si arriverà a quel matrimonio di sogno. Se entrambi non vi siete prima... Sposati con Cristo. Sposati in Cristo. Se non vi siete io voglio sposarmi con Gesù prima. E poi se Dio vuole anche con una persona. Ma prima sposarsi con Gesù. E se quella persona non è disposta a pregare allo stesso prezzo, dire io ti voglio bene, eccetera, sei l'uomo e la donna più bella del mondo, sì, ma a parole magari si è sposati con i fatti, nelle opere, nell'evangelizzazione, nel pregare insieme, nel superare battaglie insieme, nel combattere il diavolo insieme. E questo si vedrà più avanti, no caro? Più avanti ti vedrò a te se è il caso. E poi sentiamo tante storie di persone che veramente si sono amati, si sono sposati per amore, però sono finiti male. E tanti di loro anche separati in divorzio. In questo periodo stiamo aiutando una coppia negli Stati Uniti, in America, che si sono sposati così. Si sono tanto amati. Si sono tanto amati. E io mi hai chiesto... E tu li hai conosciuti prima di sposarsi. Sì, e lei mi ha chiesto domanda davanti a lui, in americano, abbiamo incontrato in Peru. Che lei vuoi essere... Lei era una discepola, diciamo, proprio al 100%. Viaggiava a evangelizzare con te. Lei mi hai chiesto davanti a lui, e c'eri anche tu, fa... Broda Giuseppe, fratello Giuseppe, cosa dici a te? È volontà di Dio? E ci ha spostato? No, non è volontà di Dio. Perché tu sei una discepola, lui no. Non è volontà di Dio. Lui era credente, battista, cristiano. E lui la coperta di soldi, vesti, vestiario, proprio all'americana. Sì, sì. E continua a coprirla con diamanti, con soldi, con tutte le cose. Però comunque, sì, tu hai detto loro di non sposarsi. Non funziona più. Lei all'inizio ha creduto, ha detto sì, questo matrimonio non è da Dio, e veniva con me a evangelizzare e dava la sua testimonianza per le strade ad altre ragazze, dicendo guarda che trappola mi ha messo il diavolo, un americano che mi lusinga, che mi ama tanto, che mi manda soldi, che vuole sposarmi, portarmi in America. Per i peruani, questa è una vita buona, andare in America. È buon, buon, buon Dio. Però lei presentava le pecorelle, lei diceva alle pecorelle, questa è una trappola del diavolo, quindi sapeva che non è volontà di Dio. E dopo un anno, invece, è andata via con lui e lo ha sposato. E adesso sono passati come dieci anni. C'ha tre bambini. Hanno tre figli. Un matrimonio difficile tutti questi anni. Ci chiamavano sempre, facevamo tanti Skype con loro perché lui era molto imposing. Lui era molto autoritario, diceva a casa mia e il capo sono io. Il capo sono io. Lo dice nella Bibbia. Lei deve obbedire, lei non mi obbedisce. Anche un po' ossessionato del sesso, vuole figli ogni anno, un figlio nuovo ogni anno, lei dice non ce la faccio più. Quindi alcune cose molto esagerate. Alla fine, alcuni mesi fa, si sono separati. Lei lo ha lasciato e è andata da un giudice per ricevere aiuto legale contro di lui. E lui ci scrive, ogni due giorni ci scrive, lo stiamo aiutando a crescere in Dio e non fare un idolo della sua famiglia perché è ossessionato che lui deve tornare a casa, deve tornare da lei. L'abbiamo detto, dagli un po' di tempo, magari anche lei deve collegarsi con Dio e trovare la sua pace perché hanno avuto tempi difficili insieme. Lei non ne vuole sentire più? Sì. Perché gli ha dato diverse possibilità e lui si è pentito diverse volte ma come il re Saúl si pente sempre ma non cambia mai. Lei ha capito la storia e adesso non ne vuole più sapere. Il giudice ha dato ragione a lei e adesso lui deve pagare spese, pagare per i bambini, gli ha dato la casa, la macchina, questo e quell'altro, sostento mensile ed è proibito per lui di avvicinarsi a lei e non può parlarle. Sì. Lui quando va a vedere i bambini lei esce di casa perché è proibito che si parlino. E noi gli stiamo dicendo a questo uomo, obbedisci tutto quello che il giudice ti dice, sii retto davanti a Dio, sii umile, fai la tua parte e vedrai che Dio ti benedirà. Non devi spingere più niente. Però non è garantito che riprenda la moglie. No, non è garantito. Perché nel frattempo lei, da quello che si capisce, sta cercando un altro o se non ce l'ha già. Sì, non lo sappiamo. Perché proprio, 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 guarda, lo ha mollato proprio nello spirito. Sì. E lui l'ha capito e non ci sta. E lei però non lo vuole vedere, non vuole parlare, niente. E allora adesso lui, in continuazione, scrive lettere, cioè, sai, piena di rimorso, piena di ravvedimento, piena, però è come se ha tirato troppo la corda. Forse c'è qualcuno, o tra di voi fratelli, sta tirando troppo la corda, in un modo o nell'altro. Coppie sposate che stanno tirando troppo la corda, trattando la moglie e il marito come come uno schiavo, una schiava, e coppie non sposate che solamente perché l'uomo gli porta un pacco di fiori ogni giorno, eccetera, eccetera, ma forse mi ama davvero l'uomo o la donna, quello che è. Sì, questo per dire non spingete una relazione solo perché avete un desiderio così forte di stare con quella persona. Perché anche se a volte da single hai momenti difficili, da sposati potrebbe essere anche più difficile. No, no. No, sarà di sicuro. Non lo so, non sono mai stata sposata. Non ho avuto esperienze, ti assicuro. Non lo so. La sposata è molto peggio. Ci vuole veramente la potenza miracolosa dello Spirito Santo, ma se entrambi non si sono dati allo Spirito Santo completamente, non funzionerà. Ci sarà uno che vuole servire il Signore e l'altro che trascina i piedi, mezzo cuore. Sì, va bene la Bibbia, però anche Sodoma non è troppo male. Va bene. Allora Angela, andiamo al messaggio qui. Sì. Ce le ha lì, no? Mi aiuti a leggere, per favore? Sì, sì, sì. Grazie. Se leggiamo un paio di messaggi che abbiamo ricevuto, per dare un esempio di quello che stiamo parlando oggi. Allora, un fratello scrive, facciamo senza nomi. Un fratello scrive, vi scrivo per dirvi, se possibile, nel nome di Gesù Cristo, se c'è qualche sorella disposta a conoscere mio cugino? Vi lascio il mio recapito telefonico. Sorelle? Angela, la nostra chiesa, abbiamo una fila di sorelle che fanno la fila per conoscere qualche cugino? Da quel che so io, no. Non ci sono. Qualche cugino, qualche vicino di casa. No. Tu sai di sorelle che sono in fila? Non ho notato nessuno fare la fila, no? Non hai notato nessuno? Andiamo avanti, allora. C'è un'altra mail qua. Un altro scrive, io vorrei incontrare una donna timorata di Dio che mi aiuti a crescere nella fede vera. Se conoscete una donna così, sarei felice di conoscerla. Caspita, cioè, è proprio cuori solitari al massimo qua, no? Cioè, praticamente metto la richiesta, tanto vale mettere l'altezza, se è bionda, che colore di occhi preferisci, no? Sì. Poi altri... Potremmo aprire un'agenzia matrimoniale. Sì, potremmo farlo, sì, però non lo faremo. Capito. E avere un club, iscriversi, tariffe per iscriversi. Insomma, c'è da ridere, se non ci fosse da piangere. Altri che non facciamo nomi ci chiedono di essere messi in contatto, chiedono a noi di metterli in contatto con persone del stesso posto, dei quali hanno sentito parlare alla radio. Siente una testimonianza. Siente magari un fratello maschile, una sorella, dolce, così, e vogliono, e ci chiedono i telefoni. Cioè, poi se le cose non funzionano, ma fratello Giuseppe, a chi hai dato il mio telefono? No. Infatti è successo che avevamo messo all'inizio in contatto fratelli, non primo di matrimoniale, ma perché, per andare a testimonare insieme, evangelizzare insieme, eccetera. E poi le cose non sono funzionate e ci hanno scritto, per cortesia, non date il mio e-mail più a nessuno. Non ci hanno detto. Sì, sì, sì. Infatti è stata una sorella, specialmente. Non date? Sì, 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 certo. Come è data l'evangelizzazione con quella? Guarda, no, 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 è un'approfittatrice, che altro che evangelizzare insieme. Quella vuole evangelizzare i suoi soldi. Cioè, e allora, questo è un problema, ma ne sono sorti di altri, però. E allora, noi vogliamo bene, fratelli, ma per cortesia, nessuno si offenda. Non siamo un ufficio qua per smistare indirizzi, eccetera. No, no, no. Per cortesia, abbiamo abbastanza guai, così come, senza anche mischiarsi nei matrimoni. Se il Signore vuole che trovi una donna attimorata da Dio, magari possibilmente di bella presenza, possibilmente che legge la Bibbia e che sia di conversazione ispirante, cioè, ve la trovate da soli, il Signore deve guidarvi, capito? Non facciamo, non mettiamo coppie insieme, lo volete capire. Sì, amè. Che periodicamente continuiamo a ricevere i messaggi così, avanti, Angela. Amè. Sì. Allora, questo messaggio l'abbiamo messo anche sulla pagina radio. c'è una foto dove vedete un uomo e una donna con un grande punto di domanda, è la scrittura di Ebrei 13,4, che dice, Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Ebrei 13,4. Gloria al Signore. Amè. Beh, cioè, bisognerebbe chiarire alcune cose, però, no, Angelina? Allora, innanzitutto compreso, dobbiamo parlare dello scopo e per cui la nostra missione, la missione dello spirito, che produce la radio, Radio Brast, il motivo perché esistiamo, innanzitutto, cioè, cosa siamo e innanzitutto cosa non siamo. Cominciamo a cosa non siamo. Allora, non siamo un sito, un'agenzia per cuori solitari, per inciso. Non è un luogo per cercare relazioni romantiche e neanche sessuali, non ne parliamo. Non è un luogo attraverso il quale siamo in grado di raccomandare chi che sia, come potenziale fidanzato, marito, moglie, eccetera. Quindi, se permettete, vorrei anche spendere due parole per incoraggiare tutti ad andarci piano con le relazioni romantiche. Ho spesso detto che noi siamo contrari, come certo lo è anche la parola di Dio, alle relazioni intime fuori dal matrimonio. Perché? Perché ovviamente posso guidare matrimoni non benedetti da Dio, conseguenze nefaste. E come possiamo vedere dappertutto, divorzi, liti, bambini separati dai genitori e così via. Che il diavolo ha sparsi il suo bolotacco, il suo sale della sua zizzania e il matrimonio diventa un inferno. Va bene? Ecco, io ho preso degli appunti qua, che adesso spero di non dimenticarmi niente. Un'altra cosa che volevo dire, è un altro punto, è che è possibilissimo che la persona errata, che entra nella nostra vita e poi diventa un'ossessione. Non puoi andare a dormire la sera che questa persona, sono spiriti del diavolo. Magari la persona non c'entra niente, il diavolo la usa perché magari questa persona è molto sexy, eccetera. Come si fa con la preghiera, sgridando il diavolo? Non è la persona, è il diavolo che deve sgridare. È lui che ti manda questi pensieri, va bene. E poi, se vogliamo che un matrimonio sia da Dio, e non solamente una cosa carnale, prestate attenzione, giovani, specialmente i giovani, che voi sentite quante disgrazie nelle coppie sposate a tutta l'età, bene, voi che non siete sposati, addrizzate le antenne che il diavolo vuole prendervi e portarvi in una prigione matrimoniale. Allora, se vogliamo che un matrimonio sia da Dio, dobbiamo aspettare, aspettare e non spingere i nostri desideri, ma aspettare, per cosa? Che sia lo Spirito Santo di Dio a dare la conferma. Uno saggio che se ne intendeva diceva, Angela, Romani 6, 16. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Romani 6, 16. Capito? In un matrimonio, in un certo senso, marito e moglie sono schiavi l'uno dall'altro. Tu sei mia, la mia, mia moglie. Tu sei qui, qua. Tu sei mio marito, mio. Ma è giusto? È giusto, è sbagliato. Dipende che razza di cancro hai sposato. Ma come? Hai sposato una fata, un angelo o un mostro. Ma sembravo così bella. E lui tutto muscoli. Non è sufficiente, mister muscolo, capito? No, no, no. Non è sufficiente. No, no, no. L'associazione divorziati è la prima cosa che gli insegna, quella, non guardare i muscoli di lui e le cose, eccetera, di lei. Va bene? Capito, sì. Quindi, quando dico obbedienza, questa scrittura qua, Romani 6, 16, dice, siete schiavi di colui a cui obbedite. Cioè, o Dio o il diavolo, dipende da chi decide. Cioè, il diavolo, nessuno dice, io osservo il diavolo. Però osserva il mondo, le cose del mondo. E allora sappiamo cos'è quello, no? Quindi, per obbedienza, che siete schiavi a colui che obbedite, intendiamo obbedire a un desiderio, a un'abitudine, a un telefonino, a un internet, a una pornografia. Può essere un'abitudine buona, può essere cattiva, può essere di Dio, può essere del diavolo. Dipende. L'abitudine è una cosa neutrale, ora dipende su cosa la concentri. Io conosco persone che sono diventate, persone che ho evangelizzato, sono diventate a sue fatte alla prostituzione. Il solo modo che, era il solo modo che conoscevano per ricevere un po' di amore nella carne. Loro credevano che era amore. O di persone che cambiano spesso, compagno o compagna. Sempre la ricerca, disperate, spingono, spingono. Quando spingi, no, devi aspettare, aspettare. Come diceva la bella scrittura Angelina, ma a Isaia 30, 15. Scrivetevole, fratelli. Isaia 30, questa è la Diodati, no? Sì, ma... 30, 15. Poiché così dice il Signore, l'Eterno, il Santo di Israele, nel tornare a me e nel riposare in me, sarete salvati. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto. Isaia 30, 15. Israele non vuole, vogliamo noi. E voi fratelli che ci seguite, so che siamo seguiti dai fratelli membri della nostra Chiesa che ascoltano la parola, lo sappiamo. E poi ci sono seguiti anche persone in internet che fanno un click e per cinque minuti sono fratelli. però un click non basta per essere fratelli, ci vogliono i frutti. Allora, scrivete questo riferimento e al fianco dovete scrivere come ricevere il vero matrimonio. per ricevere il vero matrimonio di Dio dovete seguire questa scrittura, rileggiamola. Isaia 30, 15. Poiché così dice il Signore l'Eterno, il Santo di Israele, nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ecco, adesso la domanda è, a Israele era, però voi non l'avete voluto. La mia domanda è, vogliamo noi? Volete voi, fratelli e sorelline, adolescenti, volete voi? Guarda, dobbiamo aspettare il Signore fino a trovare la persona che Dio vuole per noi. Che è una cosa molto rara nel mondo, eh? Larga la porta, spaziosa la via, delle mogli e dei mariti sbagliati, larga, non importa come sono belli, promettenti. È rara trovare la persona giusta in questa società. Solo Dio può benedirci in questo. Io credo che solo seguendo gli insegnamenti di Gesù possiamo avere speranza di trovare tale persona, solamente seguendo Lui. Guarda, c'è una bella storia che tutti conoscete. Abbiamo visto anche dei film, è una storia che si chiama La bella e la bestia. Parla di un principe che era brutto, che era sotto incantesimo, eccetera. Però la storia si svolge che con il suo amore lui fa innamorare una bellissima, amorevole, preziosa fanciulla. E alla fine lei accetta di sposarlo. Ora, questa storia ha molti principi biblici, perché alla fine l'amore della dolce giovane tramuta anche la bestia in un bellissimo principe. E così questo ci ricorda proprio come Gesù trasforma noi bestiacee in una degna fedele sposa di Cristo. Però questo solamente se saremo fedeli e valorizziamo il Signore al di sopra delle tentazioni che il maligno ci offre attraverso il mondo. Tentazioni che tengono praticamente, guardiamoci intorno nel mondo, tiene quasi tutta la Chiesa succube, impotente. Chiesa, svegliamoci. Perché nessuno di noi ha scuse. Nessuno di noi ha bisogno di rifugiarsi in relazioni fugaci e fugaci. Solamente perché non troviamo l'amore giusto. Ma hai 17 anni, hai 20 anni, hai 25 anni, hai 30. Calmati. E calmati. Io ho trovato a 49 anni. Dio ha i Suoi tempi. Sì, però nel mondo è questo. Non perché le persone che ho incontrato prima erano tutte del diavolo. No, perché io mi prendo la colpa io. Perché io non ero maturo. Dimmi. Nel mondo è questo il modo di trovare la persona da sposare, diciamo. Una relazione dopo altra, dopo altra, finché trovi l'uomo, quello lo sposi. Ed è sbagliato. Perché tante relazioni ti distruggono il carattere. Non rimani più una vergine che aspetta lo sposo. No, diventi una donna usata, diciamo. Non andare di relazione in relazione. Oggi le vergine è una cosa abbastanza rara, sia femminile che maschile. Infatti il mondo del diavolo ti prendono in giro se sei vergine, sia donna che uomo. Però anche se non siete più vergini, sorelle o fratelli, potete ritornare alla... Alla purezza. I libati nello spirito. Alla purezza nello spirito. Nello spirito, sì, sì, sì. E' conosciuta una missionaria che era prostituta, era stata prostituta. Sì. Va bene. E amava il Signore, piangeva, era ancora spezzato. Perché ha passato la prostituzione del diavolo, sa, l'ha conosciuta la prigione. e per nessuna cosa al mondo sarebbe tornata. Adesso ricordo ero in India, c'era questa ragazza che non faccio il nome, e lei era stata prostituta. Era in una gang di mafiosi italiana. Ed era in India, missionaria, sposata con un dolce fratello indiano. E raccontava le sue testimonianze e piangeva. Piangeva e si ingiozzava. E' un po' come quelle fratelli, fratelli e sorelle, senti testimonianze, anche se internet trovi di persone che hanno cresciuto in una famiglia satanica dedicata al diavolo, dedicata a viveva il sangue, alla gloria di Satana. Bene, il Signore li ha salvati meravigliosamente, sono diventati cristiani. Quindi anche se voi non siete più vergine, potete diventare nello spirito. So che oggi è una cosa abbastanza rara trovare una sorella, un fratello vergine. Però è buono. È buono perché la nostra fedeltà nella verginità carnale è un simbolo della nostra verginità in Cristo. La nostra fedeltà al marito e alla moglie è un addestramento che avremo bisogno per la nostra fedeltà in Cristo adesso e nel regno di Dio. il Signore non sposerà una chiesa battona, non sposerà una donna di porto, una pentita magari, sto parlando nello spirito. Quindi se avete fatto lo sbaglio, tranquilli, tutto nel mondo, nel mondo, ci sono passato anch'io, cioè non è che non sto predicando da un alto pulpito. Così fa il mondo, però noi non dobbiamo fare così. Il Signore mi ha tirato fuori dalla fossa anche a me. Anch'io non ho passato di cotte e di crude. Meno male che io mi sono salvato a nove anni, per cui non ho conosciuto le profondità di Satana, come dice Gesù in Apocalisse capitolo 2. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Amano. E allora Gesù ci ha insegnato il segreto, il segreto per vincere i cuori di chiunque. Qui andiamo a Romani 5. Sì. E quindi anche vincere il cuore dalla persona giusta che Dio ci manda a suo tempo, che può essere domani, fra una settimana, può essere da dieci anni, può essere da 49 anni come me. Ripeto, le esperienze che ho avuto prima non è che perché loro erano peccatori, no, no, niente affatto. Io non ero pronto, non posso puntare il dito contro nessuno le mie esperienze passate. Mi prendo tutte le colpe. Però a 49 anni è anche una zucca dura, zucca quadrata, come la mia, si è smussata un pochino, al punto che adesso mia moglie riesce a sopportarmi. Gloria a Dio. E allora tenete duro, fratelli, c'è speranza anche per voi. Allora. Romani 5. Sì, eravamo a Romani 5. Ce l'hai lì? Sì. Al 3, guarda. Romani 5, 3. Grazie. Non solo, ma ci gloriamo anche nell'afflizione, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Sì, siamo avanti. Quattro, cinque, poi fino al cinque. La pazienza è esperienza. La pazienza è esperienza. E l'esperienza è speranza. E la speranza non delude. Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Romani 5, da 3 a 5. Il punto che voglio fare qui in questa scrittura, in questo passaggio che dice un sacco di cose, è che l'afflizione producono pazienza. Fratelli, abbiamo bisogno di pazienza. Pazienza, 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 pazienza. A militare tutti quanti e volete tornare dalla fidanzata? Va bene? O cercassene una. Devi tenere duro, fratello. Sia a militare. Silenzio. Qui. Qui c'è tua moglie, il fucile. Va bene? Quella è la moglie. E avanti, strisciare nelle praterie. E paragotisi ci facevano questi, ci facevano strisciare nei viottoli di acqua nei campi. Sai, i campi ci sono quelle piccole trincepine di acqua. Ci facevano strisciare dentro un calacqua lì per la gioia del sergente. Alt! Qui c'è un viottolo di acqua dentro a strisciare. Andiamo a tenere il fucile fuori e a strisciare. E quello era il tuo matrimonio, virgolette. E com'è che sei fatta a militare? Ce la possiamo fare adesso. Adesso siamo a militare con Gesù. Amen, amen. Guardi, in Luca 6,38 c'è un grande segreto. Vogliamo andare lì? Dovreste avere questa scrittura? Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura pigiata scosta traboccante perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Luca 6,38 Allora, cos'è che dice questa scrittura? Il punto. La scrittura dice sempre tante cose ma c'è un punto che lo Spirito Santo vuole dirci. Quello che sento riguardo al matrimonio, riguardo alle relazioni è di la parola date. Cioè nel matrimonio, se il tuo matrimonio non funziona, dai. se il marito o la moglie non ti ama dai amore dai e dai e dai e dai amore dai pazienza e dai fedeltà marito adulto tu sei una moglie fedele marito è violento fin quando decidi di stare insieme dagli amore poi però un momento un marito adulto è violento lì ci sono le basi per dire ok, ciao oi tu non sei l'uomo che io ho sposato o la donna vabbè che donne violenti che picchiano il marito di solito non è molto freddo ci sono anche quelle però di solito la moglie c'ha altri trucchi per far impazzire il marito infatti la maggioranza ci sono il doppio dei suicidi negli uomini sposati che non nelle donne sono gli uomini che si suicidano quindi le donne hanno il loro modo di portarti al suicidio cioè le donne fanno un sacco di baccano che il marito mi picchia è sbagliato però non dicono che la maggioranza delle mogli fuori binario portano i mariti al suicidio questa è una statistica wow va bene quindi attenzione non ascoltiamo solo le femministe che gli uomini gli uomini gli uomini gli uomini sono disgraziati come voi va bene diciamo un bel 50-50 non è uno meglio dell'altro il regno di Dio non è femministo o maschilista no mi spiace per la contrariamente all'opinione comune allora e quindi come si fa allora per far funzionare un matrimonio dare e dare e dare e dare e poi dare di nuovo dare ancora e quando ha dato abbastanza cosa fai continui dare ancora 70 volte 7 fin quando decidi di rimanere insieme poi se quello è un debosciato totale o lei e allora c'è anche il momento che Gesù dice Matteo 5 case di adulterio divorzio ha detto Gesù allora amico amico mio fratello sorella se hai bisogno di amore non hai bisogno andare a cercarlo in fuggevoli precari rapporti occasionali non lo fare va bene perché guarda cambi il tuo DNA il tuo DNA dello spirito si cambia ti abitua a una prostituta riesci a trovare l'amore da una prostituta che mentre li ha letto con testa guardate al taccuino chi è il prossimo e ti amo così tanto ti fa anche lo sconto paghi due prendi tre non lo fate so che sembra buffo ma è terribile voi non sapete in che cesso vi state buttando d'accordo? e allora tenete duro andate a evangelizzare andate a cercare pecore incontrerete avete tanta gente sposata che dice non l'avessi mai fatto mogli distrutte che dicono non ci penso neanche abbiamo anche sorelle che me l'han detto non ci penso neanche a risposarmi ma neanche per anticambra del cervello aspettate il Signore cioè io ho trovato una moglie come si dice incidentalmente capito non la cercavo capito e Dio l'ha mandata un giorno è arrivata lei mia moglie mi ha detto sai Gesù mi ha detto di dati amore ha detto ah si ecco la moglie che aspettavo Dio la benedica io non siccome lei molto più giro di me non avrei mai avvicinata e allora lei ci ha detto che ci ha pregato un mese un mese un po' pensavo a quello che il Signore gli ha mostrato un po' mi guardava e dice ma forse ho capito male un mese ci ha messo ma sono proprio sicuro che voglio e dopo un mese non ce l'ha fatto più basta basta il Signore dice e lì è cominciata la nostra histoire di amor alleluia gloria gloria allora tutti siamo passati dai rapporti precari occasionali cosa che molti di noi abbiamo fatto nel mondo acqua passata fratelli ora siamo in Cristo siamo nuove creature d'accordo adesso niente adesso si tiene siamo se non siamo più vergine sto parlando dei singoli che non sono sposati potete diventare nello spirito va bene e non lasciate quelli fratelli singoli ho sentito storie il diavolo gli dice ah guarda sei inferiore perché non hai fidanzate e no guarda ringrazia Dio che non hai avuto fidanzate tieni dura arriverà quella giusta guarda se prenderemo a cuore questo insegnamento che è solo di dare e dare e dare e dare la nostra amicizia senza sperare niente in contraccambio e questo all'occasione anche in campo sentimentale allora troveremo che prima o poi e solo Dio sa quando troveremo che l'amore che abbiamo dato toccherà quel cuore di quella speciale persona chi come dove quando quando Dio vuole dove Dio vuole e a chi Dio vuole Dio sa Dio vede dall'alto quando Dio decide è giunto il momento ha superato le prove scegli di mandare quella specialissima fanciulla o giovane o uomo lo farà in un modo che guarda sarà come con me non ho potuto fare niente non ho fatto niente per cercare mia moglie non ho potuto fare niente per evitarla era volontà di Dio ma dobbiamo imparare ad aspettare che Dio operi in base alla sua agenda non la nostra il suo orologio perché può essere che facilmente noi magari non siamo pronti Dio non vuole che andiamo a rovinare qualcuno sai ci si sposa io sono il dono di Dio per te no no guarda tu sei il campo di missione a rovinare qualcuno oh mamma mia questa è io non la mando perché c'è ancora misericordia su quella che deve arrivare io mi sono vinto Deborah a 49 anni e dopo 24 anni di povero servizio nel Signore poveramente cercato di servire il Signore tutti i miei difetti e durante questi 24 anni di attesa che servivo il Signore questi 24 anni che Deborah non arrivava diciamo Dio mi ha cartavetrato sai cos'è cartavetrare yeah sun paper sun paper e guarda sento sono contento per lei che ha avuto misericordia per lei l'ha lasciata tranquilla per 24 anni quindi eri in preparazione tu e lo sono ancora eri in scuola ancora lo sono e chissà quanti più disastri avrei combinato oltre a quelli che ho già causato ma forse dopo forse solamente a 49 anni ero un pochino più pronto per avere sei figli va bene chi lo sa Dio lo sa non sappiamo si è vero si Dio sa cose che noi non sappiamo non possiamo sapere di bene che non sappiamo però quando diamo amore fratelli l'amore vero deve essere sempre a fondo perduto questo è l'amore di Gesù è un amore a fondo perduto cioè che lo dai senza cordicelle attaccate ehi ti ho dato un po' d'amore dieci anni fa quando è che me lo ridai no caro l'amore si dà e si dimentica tornerà quando Dio vuole attraverso la stessa persona o attraverso un'altra o direttamente da Dio altrimenti non è amore ma è convenienza è cercare il nostro interesse Gesù ha dato più amore di chiunque è stato ripagato con cosa legno e chiodi e questo è l'atteggiamento per ricevere le benedizioni terrene e le benedizioni eterne di Dio dare senza lamentarsi io ho aiutato il marito la moglie l'amico questo quell'altro e non mi hanno ripagato bravo mercenario e quanti interessi richiedevi tu non sei una moglie o un marito tu sei un banchiere dai per interesse l'amore di Gesù si dà e si dimentica gloria a Dio gloria a Dio ricordiamoci della lezione c'era un giudice in Israele si chiamava Sansone ricordiamoci impariamo dalla sua lezione chi era Sansone Sansone era erduro del quartiere era il nessuno era più duro di lui più in gamba più forte più potente lo shock di ogni donna guardando i suoi muscoli quasi svenivano cioè la peppa metteva una camicia e si sfondava la camicia quando allungava la mano per prendere la tazza di te cracca la camicia si sfasciava ma dico muscoli non si cioè così lo vedo io poi ma non so se le donne guardano queste cose almeno io no abbiamo un po' di donne donne cosa guardate cosa guardate i muscoli degli uomini voi no 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 è la prima cosa che guarda un uomo non perché siamo la radio di la verità no 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 è la verità non fate non fate le santarelline alla radio perché siete qui tutti dove vedervi immacolate la verità cosa guardate anche prima di essere cristiana di conoscere Gesù ero mondana e guardavo i ragazzi anche adesso li guardo un po' però non come prima guarda speriamo che li guardi con gli occhi di Gesù prima quando li guardavo anche adesso non mi interessava i muscoli perché di solito la gente che ha quei muscoli come tu descrivi they're very into themselves dice guardano solo se stessi allo specchio si sono pieni di questo ego pieni di te stessi pensano sempre a loro stessi quindi non mi interessava quello tipo di persona con muscoli però quando guardo a un uomo prima e anche adesso guardo sempre agli occhi ah si sempre agli occhi gloria via non lo so perché però sono gli occhi che voglio sapere anche io guardo le persone dagli occhi le giudico le persone dagli occhi infatti Gesù ha detto la luce del corpo è nell'occhio se il tuo occhio è nelle tenebre tutto il corpo è nelle tenebre se il tuo occhio è nella luce tutto il corpo è nella luce cioè gli occhi sono un po' la cima dell'iceberg si si ok allora torniamo a Sansone si torniamo a Sansone qui abbiamo Sansone che era unto dalla forza di Dio un abituato a prendere quello che gli piaceva quando gli piaceva e come voleva e questo includeva le donne e la storia di Sansone cioè è una storia insomma abbastanza molto particolare questa qua c'era un accio ancora peggio di lui il Salomone che lui insomma ne ha provato almeno mille andava in giro col motorino a visitarle andava con la Vespa allora questo era il suo punto debole di Sansone e allora cioè il suo punto debole delle donne ha mostrato al diavolo da che parte attaccarlo cosa fai quando tu fai guardi il punto debole del nemico il diavolo da che parte avrebbe attaccato Sansone che visto che a livello di forza nessuno poteva competere attraverso le donne va bene quindi state attenti fratelli a quali punti deboli mostrate al nemico perché garantito quello sarà il punto dove il diavolo vi attaccherà e adesso infatti vediamo in Sansone che furono proprio le donne infatti le donne pagane quelle che diremo oggi non cristiane e c'era una donna che si chiamava Dalila e il nemico l'ha usato potete leggere la storia in giudici giudici 13 14 lì parla di Sansone e allora questa donna pagana Dalila il nemico la usa per mettere il grande Sansone nei guai e guai profondi appunto che lui si innamora così tanto di questa donna questa donna talmente l'aveva ammaliato che praticamente cioè gli costarono i suoi occhi gli costò la sua vita perse tutto poi simbolico che gli hanno strappato gli occhi a Sansone nel senso che lì la lezione lì è che aveva posato gli occhi sulla proprietà del diavolo Dalila una donna è come un po' lotto è andato a sposarsi una donna di Sodoma una potenziale statua di sale che ti va a sposare a Sodoma Citrullo qui c'è lo zio Abramo che sicuramente c'era qualche donna degna di questo nome no? no va a sposarsi a Sodoma perché lì le donne erano più eleganti magari con i tacchi alti magari in mezzo magari in minigone che ne so come erano a Sodoma questo poveraccio è andato a sposarsi a Sodoma ma dovete cercate un uomo sorella erano andate in discoteca e lì trovate più che altro una categoria di uomini che cercano solo una cosa e se voi quella cosa non volete dare noi andate là va bene sorella vogliamo svegliarci un pochino e lì trovate droga trovate eccetera state lontano vai a tornare a Sansone qua allora quindi poi lo mettono a diciamo lo mettono a macinare come un animale lui no cioè praticamente è quello che avviene oggi i credenti cristiani si invaghiscono di donne di uomini secolari sulle quali il nemico sempre mettere non so come una specie di speciale incantesimo su queste donne che hanno sospirito di mondanità fumano in un certo modo camminano in un certo modo fanno finta che non ti guardano però ti guardano sotto le ciglie finte e cioè c'è tutte queste malie per cercare di ipnotizzarti le donne mondane statene lontani trovatevi un ragazzo una donna cristiana che invece di tacchi a spillo ha scarpe normali tacchi a spillo sono per farsi notare quindi vestitevi normali non sto dicendo vestiti in bacucarsi come un sassicciotto ma andate in giro vestiti come una prostituta solo per farvi vedere tutte le curve vestitevi normali vestitevi normali la donna più bella per me è quella normale con le ciglia normali lasciate in pace le vostre ciglia non cercate di insegnare a Dio la forma delle ciglia perché io non ho ancora visto non ho ancora visto tutta la mia vita delle ciglie elaborate che mi piacciono io sono innamorato delle ciglia normali perché Dio sa cosa fa le più belle ciglia sorelle ascoltate sto parlando a voi adesso non ai maschi a meno che anche i maschi non fanno questo Dio ci liberi sorelle lasciate le ciglia in pace sono di persone che se le sono anche bruciate con l'acido perché se le vogliono dipingere come la Picasso non fate queste cose tatuaggi non vi servono siete abbastanza brutti come siete non dovete peggiorare la situazione sto quasi scherzando eccetera eccetera va bene c'è una sorella che mi ha detto io devo depilarmi perché se no sono sempre una scimmia perché sai sorelle che ha capelli neri depilatevi così devo dire ma non fatene un idolo cioè cercate di stare il più normale possibile va bene se c'è un brutto coso sotto il naso se volete togliere toglietelo ma però per il resto sì un leggero trucco va bene c'è mia moglie che ha bellissimi macchie azzurri a volte si mette un po' di di azzurro sugli occhi ma lei è molto semplice lo fa di rado e infatti un po' di profumo potete metterlo così quando abbracciate qualcuno non svengono d'accordo però senza esagerazioni va bene sì oh insomma torniamo a Sansone ah sì che non ho finito con Sansone allora cosa fa un giorno a Sansone un giorno Sansone non è che stava esattamente meditando sulla parola di Dio andiamo a Giudice 16 il verso 4 diciamo si innamora di chi si innamorò di una donna della valle di Sorek che si chiamava Dalila Giudice 16 4 ecco appunto la Dalila o Dalila come della nostra storia conosciamo la storia Giudice 16 5 6 ma leggiamo un paio di scritture i principi dei filistei salirono da lei e le dissero tentalo tentalo e vedi da dove viene quella sua gran forza stavano impazzendo capiamo che gli ha dato quale degli dei quale degli dei gli ha dato questa forza questo qua vedi da dove viene quella sua gran forza e come potremmo prevalere contro di lui per giungere a legarlo e a domarlo e ti daremo ciascuno millecento cicli d'argento cioè praticamente oggi sarebbero milioni di dollari capito Dalila dunque disse a Sansone dimmi ti prego da dove viene la tua gran forza e in che modo ti si potrebbe legare per domarti Giudici 16 5 e 6 quindi capito quanto l'amava questo qua quando vi mettete insieme a una donna del mondo o un uomo attenzione che l'amore tutto fumo niente agosto alla prima convenienza vi vendono per un uomo una donna che si mette insieme a te perché sei piena di muscoli o perché c'ha 4 soldi o perché c'è una macchina così appena arriva uno con una macchina migliore qualche soldi in più qualche muscolo in più ciao ma se ti metti insieme a una donna o un uomo che ti ama perché ti ama te va bene e allora anche se si presenta un altro più fusto di te o di lei o di lui hai buone speranze di continuare come sappiamo Sansone si era talmente stoltamente invaglito di questa qua che alla fine gli confida il suo segreto e lei lo ha detto chiaramente come possiamo legarti don Marti era una donna nemica della nazione nemica e lui ha confidato in lei si questo mostra qui quanto imbecille diventi quando ti innamori della persona sbagliata questa è la protezione amare il signore non una donna un uomo non devo amare il mio prossimo si lo ami secondariamente l'amore che abbiamo uno per l'altro per la moglie è un amore di riflesso che viene riflesso da Dio noi diamo tutto l'amore a Dio e non ti preoccupare ci sarà dell'amore che Dio ti rifletterà per dare alla moglie al marito ma è un amore riflesso la luna rappresenta la chiesa sole rappresenta Dio la luna non ha luce in se stessa è opaca questa è la chiesa sole viene la luce viene dal sole Dio riflette sulla luna e irradia la terra che la terra rappresenta il mondo perduto va bene e allora deve dare tutto tutto il nostro amore a Dio io e mia moglie abbiamo un accordo chiarissimo qui è Gesù io gli ho anche dato non so cosa si parla ho detto anche i bambini ho detto a tutti quanti se un giorno il vostro papà non dovesse seguire il Signore voi andate avanti voi continuate voi non dovete amare più di Dio e tutti hanno detto sì 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 tutti hanno capito ed è così questa è la cosa io e mia moglie mi hanno accordo il Signore è al primo posto ma voi quanti familiari quanti amori ho lasciato nella mia vita e molti di questi perché non volevano seguire il Signore da fanatici da in un modo drastico in un modo estremo in un modo radicale va bene perché io sono buona a nulla però voglio essere un estremista per Gesù voglio essere un radicale mia moglie è bene che segua se no vado avanti con Gesù la lascio no mai mai però deve anche seguire non è mica posso mollare Dio per seguire lei se ci fosse un figlio che il Signore non lo vuole seguire è mica posso seguire il figlio o seguire un padre continuo non lascio la famiglia ma neanche lascio il Signore si segue il Signore e la famiglia deve seguire e se non vuole seguire non è che posso rinagare Dio per amare la famiglia la famiglia l'amerò sempre ma stare con la famiglia dipende se la famiglia sta insieme a me nel Signore insomma Sansone stoltamente si innamora di questa donna confide il segreto e allora rivela il segreto perde l'unzione perché si è innamorata aveva dato il suo cuore alle persone sbagliate mai dare il cuore a una persona la potete amare ma non con tutto il cuore vabbè a volte si dice così bla 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 ma in realtà tutto il cuore è solo per Gesù e tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore tutta la mente tutta la forza con tutto il tuo corpo spirituale corpo fisico tutto sull'altare come Isacco di Abramo e dopo tranquillo il Signore è un Dio generoso ti lascerà abbastanza amore per la tua moglie marito i figli i genitori e allora è proibito da Dio dare il cuore a una persona rimarai sicuramente imbrogliato abbandonato ingannato va bene ci sarà sempre un Giuda che ti vende per neanche 30 pezzi di denaro Michea 7.5 dovresti avere lì sì non fidatevi del compagno non riponete fiducia nell'amico intimo sorvella la porta della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo petto Michea 7.5 va bene dice non ti fidare della donna che ha la testa sul tuo petto o non ti fidare dell'uomo su cui petto eccetera e bicchiare di così non si può non ti innamorare non ti invaghire se no quel compagno o compagna diventa una droga che ti schiavizzerà Matteo 10.36 e 37 e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua chi ama padre o madre più di me non è degno di me e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me Matteo 10.36 e 37 Giovanni 2.24 25 ma Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo perché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo Giovanni 2.24 e 25 va bene Gesù tradito da Giuda aveva detto questo aveva detto non mi fido di nessuno il fratello Giuseppe non si fide neanche di se stesso come faccio a fidermi degli altri amare gli altri sì persino i nemici fidarsi in un'altra storia ricordo Cesare che fu fu ucciso da Roma e uno dei suoi uccisori era brutto il suo figlio adottivo grazie brutto grazie tutto l'amore che ti ho dato di bruti oggi ce ne sono adesso a sinistra Dalila con tutto il denaro promesso pensavo al denaro cosa fa Dalila tradisce Sansone lo vende a Filistei e questi per precauzione gli cavano subito gli occhi e possiamo solo immaginare come si sentiva Sansone tradito venduto per denaro dalla sua amata ma vediamo queste esperienze dappertutto Giuseppe figlio di Giacobbe venduto la moglie del suo padrone che gli correva dietro al letto intorno al letto gli correva e lui per evitarla lei lo denuncia per aver ripiutato sesso facile va in prigione ma Dio lo stava controllando Dio lo stava mettendo alla prova prima di farlo diventare principe d'Egitto doveva provarlo quindi fratello se sta attraversando tragedie sta attraversando tribolazioni matrimoniali extra matrimoniali Dio ti sta approvando e qui torniamo a Sansone lì alla macina che al posto del bue dell'asino hanno messo Sansone a girare la macina cieco ha ceccato tra le risa le risate dei suoi nemici filistei adesso girava la macina lui che era il giudice di Israele lui che era il sogno di ogni donna era lì a girare la macina ma il Signore doveva umiliarlo e siccome non si era umiliato volontariamente e allora il Signore permise che che lui fosse umiliato dai suoi nemici fratelli se non volete essere umiliati dai vostri nemici scegliete volontariamente di umiliarvi e tutti conosciamo la fine di come Sansone muore distruggendo il Tempio Pagano con i 3000 pagani che adoravano eccetera potete leggere questo libro dei giudici ma facciamo un passo indietro vorrei ritornare su come quella affascinante donna Dalila aveva Dalila aveva stregato Sansone come l'ha stregato romanticamente sai i fiori i cioccolatini e sessualmente il sesso è una trappola è una delle più potenti trappole che il diavolo ci abbia il sesso occhio aprire gli occhi conosco delle persone delle quali non faccio i nomi che sono altrettanto stregate da simili infatuazioni le quali credo sono avviate ad altrettanto fosse tetre conosco questa persona e quindi state bene attenti di chi o di cosa vi innamorate state attenti che l'amore sia consacrato a Dio usato da Dio non usato dal diavolo nel caso di Sansone l'amore fu usato dal diavolo potrà essere potete innamorarvi di una persona innamorarvi di un'idea di un desiderio quell'erba più verde che nella tua immaginazione appare una piccola terra promessa ah se solo potesse avere quella donna quell'uomo oh oh io vi suggerisco fratelli prima di saltare di guardare e non e non saltare poi guardare ma prima guardare e poi magari non saltare consigliatevi con qualcuno qualche persona di Dio qualcuno di vostra scelta che sia frutti di Dio e ascoltate perché vediamo nel libro di Geremia capitolo 50-51 lì e che andarono da da Geremia e dissero chieda al Signore se è giusto che andiamo in Egitto faremo tutto quello che Dio ci dice Geremia prega torna e dice Dio non vuole che andate in Egitto se no morirete no noi allora noi non ascoltiamo e cosa va dal profeta a chiedergli scusa che poi non fai quello che dice problema oggi che molti fanno finta di consigliarsi nella chiesa non solo la mia ma anche altre anche altre vere chiese fanno finta di consigliarsi finta per avere una copertura di religiosità di spiritualità in realtà nel loro cuore già sanno che faranno quello che vogliono e di queste persone ne conosco diverse fanno finta di consigliarsi con me con te tutte finte quando gli dai consigli fanno ah sì 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 che buona idea grazie arrivederci a fare il contrario io noi scuotiamo la testa diciamo facciano quello che vogliano io chiediamo a tutti umilmente a tutti quanti non venite a consigliarvi con noi se poi non ascoltate o se trovate uno meglio di me d'accordo ma ascoltate lui allora ma voi non state ascoltando nessuno però solo il vostro orgoglio solo il vostro superbia solo il vostro egoismo e mi attirete quello che seminate guarda andiamo da proverbi Angelina proverbi 7 21 27 c'è un bel passaggio lì ce l'hai ora si avviamo sì proverbi 7 21 a 27 grazie lei lo sedusse con le sue molte lusinghe lo trascinò con la dolcezza delle sue labbra e gli le andò dietro subito come un bue va al macello come uno stolto e condotto ai ceppi che lo castigheranno come un uccello si affretta all'accio senza sapere che è teso contro la sua vita perché una freccia gli traspassi il fegato ordunque figlioli ascoltatemi state attenti alle parole della mia bocca dice il Signore il tuo cuore non si lasci trascinare nelle vie di una tale donna o tale uomo non ti sviare per i suoi sentieri perché molti ne ha fatti cadere feriti a morte e grande è il numero di quelli che ha uccisi la sua casa è la via del soggiorno dei morti la strada che scende in grembo alla morte proverbi 7 21 a 27 chi vuole ascoltare ascolti e chi non vuole ascoltare non ascolti fate quello che volete come al solito i saggi ascolteranno e per questo sono saggi i saggi e i benedetti ascolteranno e per questo sono benedetti questo ovviamente si riferisce a maschi e a femmine non ci confondiamo ho conosciuto anche persone ho conosciuto anche gente che erano cioè si sono distrutte da sole autodistrutte perché avevano avevano allacciato come delle relazioni con persone che avevano spiriti egoisti spiriti approfittevoli non è che loro erano del diavolo no non credevano in Dio ma adoravano se stessi va bene quindi puoi credere in Dio per adorare te stesso perché a chiacchiere sei cristiano nei fatti segui te stesso il tuo spirito che è peggio del diavolo quindi persone che pensano solo alla propria carne i propri sensi e sinceramente credevano che queste sensazioni questi questi desideri fossero volontà di Dio sento così quindi al Signore ho pregato sì sì ho pregato ho stra pregato ho ripetuto certo tutto e sento così invece desiderano così hanno confuso il desiderio con la volontà di Dio quindi attenzione la verità è che quando sposate qualcuno o qualcuna dovete controllare lo spirito va bene e non solo la sua carne togliete gli occhi dalla carne che tra le persone più belle al mondo sono figli del diavolo non non giudicate una macchina per la carrozzeria apri il cofano non c'è il motore quindi se una persona ha spiriti che non sono di Dio vi state sposando come dicevo prima non solo con la persona ma come dicevo state sposando lo spirito e che può essere può essere un diavolo questa è una cosa molto profonda cioè non ti sposi con una persona solo nella carne perché ti piace quella persona la Bibbia dice che in realtà state diventando uno siete uno tu sei una metà lui è la tua altra metà quindi i suoi spiriti sono condivisi con te devi stare molto attento che tipo di spirito ha quella persona non solo la bellezza della carne quando ti sposi e questa è una realtà vera 99% del matrimonio è tra due spiriti non tra due pezzi di carne che la carne diventa a sua fatta quello che ti metti davanti diventi davanti la televisione diventa a sua fatta la tv una droga diventa a sua fatta la droga politica politica il diavolo diventa a sua fatta quel diavolo magari vestito da bella donna per l'uomo oppure metti davanti il Signore la Bibbia e allora diventi non dico a sua fatta ma abituato a cercare il Signore abbiamo visto nella storia di Sansone alla fine a Dalila Dalila attraverso il sesso guidava Sansone in giro come un cagnolino Dalila aveva Sansone al guinzaglio attraverso il sesso lo controllava non cadete in quella trappola uomini e donne per questo che la Bibbia dice sesso no solo da sposati eh ma io mia moglie sono stanca io ho 30 anni che sono disgraziato tu devi pregare per amarla quella moglie di un marito eh ma lei adesso è più vecchia e c'è una segretaria che è più giovane no se sei figlio di Dio tu pregherai per crescere nella moglie che adesso magari è anziana ha bisogno del tuo aiuto la tua assistenza è il momento che mostri se veramente sei figlio di Dio grazie signora quindi Dalila lo guidavo come un cagnolino e avviene oggi l'abbiamo visto l'abbiamo visto quindi Sansone più forte del mondo è diventato l'intimo schiavo di Dalila da scaricare per interesse un po' di soldi e ciao Sansone addio posso trovare uomini a destra e a sinistra così avviene nel mondo secolare quindi attenti a chi vi sposa se lo fa perché interessa per sé o interessa nella vostra bellezza quindi sempre per se stesso o perché siete di simpatica presenza quindi sempre per se stesso o perché gli piace la vostra posizione la vostra casa eccetera quindi per se stesso in voi questa persona sta sposando quello che gli interessa quello che gli conviene è come la banca che ti dà soldi oh come mi ama la banca mi ha dato dei soldi ma hai guardato l'interesse cosa c'è di male ad amare una persona perché è bella eccetera cosa c'è di male molto il vero matrimonio cristiano non è solo perché quella donna o uomo è super sexy ma il vero matrimonio cristiano è fatto per aiutarsi a vicenda aiutarsi a crescere nel Signore e per servire il Signore non l'un l'altro vi ho raccontato tempo fa la storia di quella donna che stava evangelizzando eravamo in Romania a Cluj e lei aveva una cartoleria aveva una cartoleria era così dolce sta donna un giorno dopo un anno un anno e mezzo la conoscevamo dice io c'è un cancro sto morendo il dottore mi ha detto che sono terminale e ho incinato a incoraggiarla visitarla più frequente vederla di più amarla e mi fa mio marito mi ha divorziato ha detto perché non vuole non vuole una moglie col cancro mi ha divorziato capito questo mostra che non era figlio di Dio era figlio del diavolo quando un compagno o una compagna prende un cancro è il momento di tirarsi sulle braccia davanti i piedi quella è la tua missione non devi andare in Africa a cercare africani ce l'hai lì il tuo africano o africana datti da fare se sei figlio di Dio se sei figlio del diavolo fa quello che ti pare ha divorziato ciao l'ha lasciato addio addio e noi preghiamo per lei tutta questa donna guarisce dal cancro guarisce dal cancro è felice come una Pasqua il Signore ha usato il cancro per rivelare lo spirito del marito e liberarla da questo del vero cancro era il marito fratelli possiamo condividere con voi tante lettere di persone sposate che dopo essersi sposati sono stati afflitti da spiriti provenienti dall'altra persona che non avrebbero dovuto sposare una volta sposate con figli è molto più difficile mi chiedono consigli cosa fare ma essendo già legati in un matrimonio e con figli spesso possiamo solo dire loro che devono decidere loro cosa fare secondo la loro fede Matteo 929 cosa vuoi che dica io e scusa fatto delle decisioni e a questo punto ti mando dal Signore e te lo devi dire lui cosa devi fare comunque dei consigli già hanno dati parecchi e adesso pregate una delle cose migliori che consiglio sempre è di fare un fidanzamento in cielo un fidanzamento spirituale come Dio ha sempre fatto con il suo popolo cos'è il fidanzamento spirituale e prima di fidanzarsi con Gesù la parola puoi fare un piccolo rodaggio nello spirito di Dio come si fa il rodaggio e la coppia deve camminare insieme nel Signore ma come si fa frate Giuseppe specifico l'ho detto mille volte dovete andare a evangelizzare insieme studiare la parola di Dio insieme crescere nel Signore insieme incontrare le pecorelle visitarle incontrarvi accudirle e vedete che questi problemi spariscono come d'incanto è una mente oziosa che è il laboratorio del diavolo an idle mind is the devil's workshop una mente oziosa è il laboratorio del diavolo chi è troppo pigro siccome è pigro di fare il rodaggio va bene di fare finanziamento però finanziamento piano col sesso non saltate nel sesso finanziamento non vuol dire saltare nel sesso niente niente affatto perché il sesso c'è una caratteristica che poi ti imprigiona poi te la sposi per il sesso non perché è volontà di Dio e siccome bisogna di sesso dice sì sì sento che è volontà lo sento e quello che senti te è carnalità carnalismo quindi chi è troppo pigro per fare questo è troppo premuro di saltare tuffarsi dentro un matrimonio una relazione alla fine ascoltate bene quello che vi dico avrete solo voi stessi di lamentarvi va bene poi frate Giuseppe non potrà fare i miracoli va bene i miracoli quando andate da Dio e il più grande miracolo è un punto in tempo ne salva 100 ok non guardate dopo aver saltato prima guardate poi magari decidete che non vale la pena di saltare per non piangere dopo sull'arte versato o per le tragedie che seguiranno tranne un miracolo succedono anche miracoli che la preghiera fa miracoli il nostro Dio è un Dio di miracoli allora se siete se siete in una fossa e so che qualcuno c'è pregate disperatevi digiunate il Signore può fare il miracolo e se credete con tutto il cuore nel nome di Gesù Cristo li farà Amen Alleluia gloria a Dio Amen grazie Gesù Angela ti do il microfono facciamo una pausa mettiamo un canto fratelli iscriveteci per cortesia e fate un po' di come si dice powwow consigli mandateci commenti fateci sapere se secondo voi questo messaggio viene dal Signore oppure no facciamo questa pausa per ascoltare la perla preziosa di Marcello Marocchi e poi condivideremo alcune testimonianze e domande che i fratelli hanno scritto su questo soggetto del matrimonio abbiamo alcune domande precise che devo chiederti ascoltiamo Marcello Marocchi la perla preziosa ho camminato e girato nel mondo per ogni dove non sono contento ho avuto e comprato le cose più belle ma stanno invecchiando insieme alla pelle sentivo nel cuore il dolore del mare batteva gli scogli ma non c'era amore romantico il vento faceva sognare ma il sogno svaniva e restavo a pensare giro, giro e girerò finché un giorno troverò qualcosa che mi darà pace questo cuore sazierò dietro i monti dietro il mare quanto c'è da camminare cuore mio che devo fare per poterti accontentare ho camminato restando seduto ho inseguito la vita ma sono invecchiato lavoro, lavoro di notte e di giorno e a volte mi chiedo perché non mi fermo ho comprato l'amore e cantato poesie ho dato a una donna le mie gelosie ho speso la vita a comprare carezze avrei fatto meglio a cercare certezze ma girando troverò stoffe d'oro e fiori blu finché un giorno comprerò qualcosa che non muore più dietro i monti dietro il mare quanto c'è da camminare il mio cuore è sempre inquieto lui non si accontenta mai ho visto un uomo e mi sono fermato aveva una perla e mi sono perduto splendeva e brillava di luce diversa persino il mio cuore ci ha perso la testa ho preso di corsa la strada di casa ho fatto un fagotto dell'ora e gioielli e per averlo ho venduto ogni cosa persino la casa e i vigneti più belli voglio voglio quella perla solo io so quanto vale se anche voi l'aveste vista capireste non c'è uguale prendereste a calci il mondo tutte le sue vanità è la perla della vita e mi dà la libertà voglio voglio quella perla costa dopo lascia stare voglio voglio quella perla chiede in cambio la tua vita chiede in cambio la mia vita ma mi dà l'eternità voglio voglio quella perla è la perla della vita è la perla della vita e mi dà la libertà primo commento da parte di Salvatore che ha scritto adesso mentre tu parlavi sul matrimonio e dice cari fratelli non è facile trovare la persona giusta per essere marito o moglie molto spesso i matrimoni non funzionano poiché arrivati a un certo punto diamo tutto per scontato invece ogni giorno dovremmo alimentare il sentimento con dei gesti d'amore l'uno verso l'altro io sono sposato da 25 anni e in questi anni vi dico la verità abbiamo avuto tante difficoltà e conflitti tra noi io ho fatto molti errori e non riuscivo a capire le esigenze di mia moglie il Signore da un po' di tempo mi ha dato la pazienza e amore che prima non avevo io dico una cosa Giuseppe ha ragione dobbiamo dare 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 e pazientare non lasciarci prendere dall'ira il nostro amore e la nostra pazienza potrebbero portare a convertire quel coniuge che è lontano da Dio grazie Salvatore grazie Salvatore benedica un bel messaggio bel messaggio testimonianza questa non è una predica testimonianza fatto avvenuto sì che è un fratello che risolvono i problemi dando amore e dando amore e dando perdono e dando dando il mondo ti insegna prendere 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 qualunque scuola vai qualunque università qualunque politica prendi tu hai diritto hai diritto a questo diritto a quel diritto tu hai solo diritti perché tu meriti e caro mio se ti sposi così guarda risparmia soldi guarda prepara le carte del divorzio prima di sposarti va bene poi un commento da Mattia fratello Giuseppe sì questo messaggio viene dal Signore perché le difficoltà che ci hai elencato e che la Bibbia ci dice attraverso le storie di Sansone e Salomone ci mettono davanti tutte le difficoltà personalmente mi sono convertito dopo sposato e mi sono accorto quanto sia difficile per un cristiano stare con una persona non cristiana però confido in Gesù parlo con lui e so che farà cose meravigliose nei tempi e modi che solo lui sa ti ringrazio per i tuoi insegnamenti che Dio vi benedica Mattia gloria a Dio grazie Mattia amè Signore aiutaci bellissimo questa testimonianza grazie Gesù poi una sorella chiede cari fratelli mi è stato detto o ci sposiamo o se no è finita fra noi due per sempre questo per me è come un ricatto cosa ne pensate sono d'accordo io credo che non sono l'unica che riceve queste parole ma io mi chiedo se siamo cristiani veri o del mondo perché nel mondo visto che si parla così Dio vi benedica grandemente è bene sono d'accordo con la sorella è un orribile ricatto cioè praticamente costringere come storce il braccio dietro la schiena di di sì se no non è amore una persona che gli dice così non ti ama ama solo se stesso o se stessa cioè dobbiamo vedere se non hai volontà di Dio e se io non sono una persona adatta per te perché vuoi spingere a sposarmi no è sbagliato non non sposerei una persona così è una persona sbagliata una che parla così avrei solo guai cioè io lo so un po' meglio i dettagli della situazione entrambi vogliono sposarsi ma uno vuole farlo adesso subito l'altro vuole aspettare un po' per ancora mettere alla prova questa relazione se vedere se può passare alcune tempeste se veramente funziona insieme la relazione cioè nell'evangelizzare servire il Signore uno vuole farlo adesso uno vuole farlo un po' più tardi dopo che passano alcune alcuni problemi insieme questo atteggiamento si trascinerà anche nel matrimonio quando ci sarà da fare delle decisioni o facciamo così se no io ti lascio quindi o mi sposi se no ti lascio ma scusa ma cioè come che segue Gesù e Gesù dice che lui è lo sposo della chiesa sposa e la chiesa sposa dice o mi sposi adesso o io ti lascio Gesù guarda dal diavolo il diavolo mi dà tutto e subito e sarà meglio che vai presto no no io no io se fosse in situazione così che una donna mi dice o mi sposi subito o ti lascio io gli dico guarda quando tu mi lasci sarà sempre tardi e comunque guarda addio 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 e proprio quello è lo scopo dello fidanzamento no è una prova va per entrambi se vedere se è la persona giusta no niente ricatti cioè già questo mostra che il matrimonio è sbagliato già comincia sul piede sbagliato io direi non vedo nessuna benedizione di Dio li vedo solo le minacce carnali umane d'accordo? certo certo perché sposarti con uno che si sente obbligato a farlo non perché vuole certo che non è un matrimonio poi è uno spirito di bullismo una spirito di prepotenza cioè uno che si sposa così cioè lui stesso non sarà mai felice non credo che uno così ha avuto esperienze con altre donne l'esperienza che ha avuto con altre donne sarà stato uno un disastro perché sequestra la sua mentalità non troverà mai un matrimonio che funzioni va bene il matrimonio non è il sesso saltare a letto non è questo quello lì è la trappola guarda Sansone insomma il mio suggerimento è io parlo cosa farei io poi tu devi farlo cara sorella io non posso dire te cosa devi fare va bene la mia autorità la mia giurisdizione finisce a livello di consiglio io non c'ho nessuna autorità allora quello che farei io no assolutamente già quella è un'indicazione che la relazione è sbagliata va bene va bene non è niente affatto non è lo spirito di come una colomba andiamo sì prossima domanda da un'altra sorella praticamente si tratta di una situazione una coppia di fratelli entrambi cristiani ma con idee diverse come fanno a fare la volontà di Dio nel senso che ognuno ha i suoi desideri riguardo a dove vivere dove spostarsi ma i suoi desideri sono opposti ai desideri del coniuge anche se entrambi cristiani entrambi amano Gesù leggono la Bibbia cosa possono fare se sono così diversi? ma sono sposati? sposati sì sposati entrambi cristiani però con idee diverse su per esempio dove vivere dunque bisogna vedere se uno di questi due se lì c'è la fede nominale o è vera cioè innanzitutto cioè idee diverse cioè la risposta è facilissima cosa dice la parola? la parola secondo le interpretazioni della della chiesa a cui si appartiene cioè chi appartiene alla nostra missione noi abbiamo delle abbiamo delle indicazioni scritturali che sono nella Bibbia nel Vangelo siamo nel tempo della fine viene l'anticristo quindi parlo in senso generale adesso non voglio neanche rispondere a una situazione locale così la risposta è come sempre andare alla parola alla parola alla parola alla parola va bene e poi qui praticamente questi un po' una specie qui ci sono i semi della separazione qui ci sono nello spirito va bene questi qui sono separati nello spirito dormiranno anche insieme ma è terribile quando ci sono bambini in situazione così comunque il cristiano non abbandona mai il la moglie e il marito l'ho detto mille volte ok però neanche abbandona Dio va bene non puoi mica per far contento al marito alla moglie da abbandonare il signore scusa eh cioè allora cosa fa il cristiano che il signore non può abbandonare e però c'è qui c'è una moglie o marito che no non ti seguo tu vuoi rimanere e lui vuoi andare via e tu vuoi andare via e lui rimane cioè rimanere o andare è questa cosa individuale personale io non voglio entrarci io parlo in senso generale chiese nel mondo uscire dall'occidente uscire dalle città questo farei io però sempre a livello farei io poi ognuno fa quello che vuole e praticamente il cristiano che non può non può abbandonare Dio non può rinnegare Dio e speriamo di no però c'è un coniuge che dice no se fai così io ti lascio allora tu cristiano non lo lasci non lo lasci il cristiano non lascia il coniuge i bambini niente però neanche lascia Dio è lo che fai tu vai vai a farla con Dio facciamo un esempio c'è un coniuge che dice io voglio andare a evangelizzare faccio un esempio buttato lì tutti i giorni e l'altro dice no tu devi stare qui tutti i giorni con me a accudirmi e dice sì ti accudisco la mattina la sera però io devo anche servire al signore no e tu il signore così non lo servi perché tu sei sposata con me attenzione attenzione qui già qui c'è una trappola quando tu ti sei sposato e ti sei sposato in un modo cristiano suppongo quindi il matrimonio cristiano è innanzitutto con Dio essere benedetto da Dio dal momento che te gli dici al coniuge tu non servi il signore così cos'ha non vuoi fuori evangelizzare tutti i giorni neanche a mezz'ora al giorno neanche un'ora al giorno quello che è tu praticamente hai divorziato hai divorziato davanti anche se dormi insieme e c'è rapporti intimi d'accordo questo processo sono alla carne però davanti a Dio hai divorziato perché stai dicendo alla moglie al marito tu non vai a evangelizzare tutti i giorni perché e perché io adesso praticamente questo qua questo marito questa moglie diventa Dio vuol fare è geloso di Dio tu dedichi troppo tempo a Dio devi dare tutto a me io sono il tuo Dio allora tu che metti Gesù prima o poi e poi ti dici guarda io io mi prendo cura di te dalla famiglia qui c'è il mio stipendio qui io cucino quello che è però devo anche mettere al primo posto il regno di Dio e la sua giustizia va bene e allora vai avanti per il Signore vai avanti a evangelizzare se ti dice non puoi andare devi andare lo stesso perché evangelizzazione nessuna legge al mondo proibisce di evangelizzare tranne che sono sei che so in un posto islamico un posto hindu che non è il caso nell'Occidente non c'è nessuna legge che non puoi evangelizzare c'è solo un marito una moglie possessiva che vuole fare vuole prendere il posto di Dio guarda è l'ora andare avanti quindi Dio non lo può abbandonare però continua a seguire il Signore e la famiglia deve seguire nel Signore non stiamo dicendo andare in giro a fare cose egoiste andare a amare il prossimo predicare il Vangelo devono seguirti se non ti seguono si aranciano tu vai avanti sempre invitandoli venite venite per favore stiamo insieme per favore no non voglio stare insieme perché tu evangelizzi tutti i giorni o tu vuoi andare in quel paese lì e predicare e tu vuoi eccetera vuoi fare una cosa e loro non vogliono e tu vai avanti e sempre invitandoli tu non li lasci loro lasciano a te Lot non ha mai lasciato la moglie lei ha lasciato lui quando si è girata e che è diventata sale l'ha lasciato e lui ha continuato senza voltarsi aggiunge al momento bisogna andare avanti senza voltarsi e guardare la moglie di Lot il marito quello che è quindi questa è una risposta per tutti in generale perché a volte studiando le scritture e abbiamo studiato dove dicono che il marito è il capofamiglia e la guida nelle cose pratiche e come tale la moglie la devo onorare giusto? giustissimo anche nel Vecchio Testamento e la moglie deve onorare il marito che è il marito ufficialmente capofamiglia ancora nel mondo anticristo e ancora capofamiglia in tanti casi ormai lo stanno cancellando perché il diavolo ormai non gli piace perché è troppo biblico questa storia però tenere ben presente che dalla venuta di Gesù nonostante la moglie deve onorare il marito come capofamiglia dalla venuta di Gesù nel Nuovo Patto nel Nuovo Testamento adesso la donna la moglie per quanto riguarda il camminare in Cristo i doni dello spirito come primo corinzi 12 può essere alla pari del marito e può essere anche la guida della famiglia parlo ovviamente a livello spirituale a livello tangibile materiale marito capofamiglia d'accordo ma nelle cose spirituali le decisioni cosa fare cosa non fare e allora lì c'è una guida uno deve essere la guida però può essere il marito può essere la moglie dipende da chi ha i doni dello spirito davanti a Dio la guida spirituale in famiglia è chi è è quel marito è quella moglie che è un buon esempio e quindi guida la famiglia attraverso i doni frutti dello spirito quali sono specificatamente la guida è quello che ha più amore più umiltà è quello che guida ad andare a evangelizzare sempre di più è quello che di più si prende cura dei bambini è quello che ha più saggezza nelle finanze familiari questa è la guida fare su tutti i sbagli che vuoi però tra moglie e marito c'è uno che ha talenti per esempio uno è proprio talenti che so di handyman di cose materiali di cose pratiche eccetera e c'è un altro che invece ha più doni nello spirito è profeta o profetessa va bene quindi questa persona è normalmente la guida spirituale della famiglia e può essere il marito può essere la moglie sempre onorare il marito capo famiglia nelle cose pratiche nelle cose spirituali cristiane in Cristo nella Bibbia nell'evangelizzazione nella decisione spirituale può essere anche la moglie o il marito dipende dipende ci sono donne che sono molto più avanti degli uomini nelle cose spirituali nella Bibbia c'era una donna Deborah era la giudice di Israele in Romani 16.1 c'era Febe che era una pastoressa di una chiesa in Cencrea a volte ci sono idee diverse cosa fai quando ci sono idee diverse io sto pregando su questo ho ricevuto una scrittura atti capitolo 2 che tutti conoscete nel caso di idee diverse in famiglia si dovrebbe seguire la guida nella mia famiglia nella mia famiglia qua con i miei figli i miei fratelli qui ci sono sempre idee diverse ma sempre ci mettiamo insieme e discutiamo in amore finché l'idea diventa una tutti tutti sono benvenuti a portare scritture i propri ragionamenti la propria logica la propria saggezza e alla fine sorelle alla fine è così evidente qual è la volontà di Dio è così evidente cosa fare che non ci sono difficoltà quando ci riuniamo qui in comunità siamo in otto diciamo noi stiamo qua a offendersi a fare il muso lungo no qui vogliamo la tazza di te insieme preghiamo capito ci si consiglia cioè il pastore non è il dittatore non è il profeta o l'unico profeta il pastore anzi è sotto me questo è il profeta il pastore sì però il pastore profeta è sottomesso all'autorità della chiesa attenzione lui non è che comanda la chiesa e sono i doni dello spirito attraverso di lui o attraverso gli altri fra suo marito o attraverso la moglie in altre parole la guida è Gesù i doni dello spirito lo spirito santo una cosa che io ho dovuto imparare in questo è che quando io avevo una buona idea che credevo è Dio che mi ha parlato e poi ci siamo riuniti ci siamo consigliati e in accordo abbiamo deciso di fare un'altra cosa che era veramente da Dio e non la mia idea cioè la mia idea è stata scartata ho imparato a non avere il muso lungo come tu dici e mettere tutto il cuore non avere il muso lungo e mettere tutto il cuore per fare quello che noi ci siamo messi d'accordo tutti anche se non è stata la mia idea anche se non io forse avevo idee diverse ho imparato a mettere tutto il cuore in quello che noi ci siamo accordati perché è quello che Dio ha mostrato e ha benedetto e ogni volta che l'ho fatto Dio veramente ha benedetto ho visto la sua benedizione ma se tiravo le piedi devo fare quella cosa che non mi piace perché così ci siamo accordati se tiravo i piedi vedevo zero unzione zero benedizione quindi devi mettere il cuore anche se fai cose che tu forse non sei d'accordo se è Dio fallo fallo con tutto il cuore quindi quando tu quando uno è sposato dopo un po' si vede chi ha i doni dello spirito ma se sono entrambi cristiani come si vede? perché mai i due cristiani siano gli stessi doni no sempre doni diversi di regola e anche se verso gli stessi doni fotocopie cosa improbabile c'è sempre uno che ce n'ha di più come Paolo e Barnaba tutti e due erano profeti tutti e due evangelizzatori però c'era uno che aveva di più e quando Barnaba in atti capitolo 15 si è messo a litigare perché magari aveva ragione e magari aveva ragione e poi si sono divisi eccetera però anche se avesse avuto ragione che magari l'aveva probabilmente l'aveva ma però dipende dal punto di vista comunque insomma litigavano Barnaba doveva sottomettersi perché? perché Paolo era l'evidente guida separandosi da Paolo Barnaba sparisce dal libro degli atti non c'è più nessuno sa cosa ha fatto nel libro degli atti quindi una volta che c'è una guida in una casa non vuol dire che è perfetta questa guida farà gli sbagli come Paolo ha sbagliato a litigare con Barnaba e però farà degli sbagli ma è sempre la guida è sempre Pietro era la guida della prima chiesa ma ha fatto un sacco di sbagli ci sono la chiesa di Galate gli sbagli di Pietro però era sempre la guida però quindi è uno è uno che è molto piccolo nello spirito uno che cerca rogna uno che cerca la lite che va a vedere gli errori dal pastore come in internet sono lì a guardare il frate Giuseppe e tutti i suoi errori d'accordo ma vedete solo errori non mi conoscete neanche sì ma tu sei del diavolo ma se non mi conoscete lasciate in pace la gente quindi in una famiglia è evidente chi ha i doni di andare a evangelizzare chi è il più umile chi è il più amorevole chi profetizza di più chi capisce la Bibbia meglio chi fa crescere i figli meglio nella parola e quello è il pastore il pastore non è uno che ha il pantalone o la sottana è quello che ha i doni dello spirito quindi nel caso di idee diverse in famiglia bisogna vedere chi ha i doni di guida di pastore di anziano questa persona può essere il marito può essere la moglie e questi talenti è unzione è frutti che ha è l'unzione nella persona che guida non è la persona è la divisa l'uniforme dell'ufficiale che guida nell'esercito non è la persona quando saluti non saluti la persona saluti il distintivo la bandiera l'uniforme giusto e gli altri nella famiglia gli altri devono sottomettersi se non sono orgogliosi superbi e vogliono andare per la via del mondo è la famiglia della catafascia una famiglia che che la coppia non ci sottomette a colui con lei che c'è dono dello spirito la famiglia non concluderà mai niente nello spirito e allora la persona che c'è dono dello spirito deve andare avanti per il signore e l'altro l'altra segue se vuole se non vuole pazienza pazienza se mia moglie non volesse seguire grazie a Dio che lei va anche più veloce di me o io non volesse seguire mia moglie deve dire marito mio io ti amo e devo andare a evangelizzare in quel paese lì domani c'è una famiglia che ci aspetta andiamo no perché io devo bere un bottiglione di vino domani no perché io devo guardare la televisione no perché io devo giocare al tennis no perché io mi devo grattare lo stomaco allora mia moglie è tenuta a dire marito mio sì guarda lì nel forno in cucina c'è la cucina col forno c'è un pezzo di cane dentro già preparato io c'è il sale c'è questo c'è la spezia e tutto e però devi tirarlo fuori dagli una scaldatina te lo tiri fuori e ti mangi quanto ti pare no devi essere qui perché alla sera io quando vado a dormire voglio la moglie lì che mi aspetta sì d'accordo ci sarò però stasera invece di arrivare alle sette arriverò alle otto alle nove quello che è perché sono delle sorelle a pregare no io sono il capo famiglia uno così guarda meglio Pedro che trovarlo guarda un matrimonio così non può andare da nessuna parte catafascio va bene allora matrimonio del mondo la persona nello spirito dovrà andare avanti per il Signore ad essere umile in famiglia amorevole in famiglia amorevole col marito con la moglie con i figli e andare avanti per Gesù questo deve fare prende sicuro dalla famiglia però senza tralasciare l'altro seguire il Signore ameno ameno allora atti 2.17 dovreste averlo lì una scrittura che tutti conoscete atti 2.17 avverrà negli ultimi giorni dice Dio che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni atti 2.17 quindi lo spirito di Dio può essere sui figli o sulle figlie sugli uomini o sulle donne come tu hai detto bisogna vedere chi ha l'unzione quindi lasciare perdere dottrine femministe maschiliste possono le donne essere sacerdotesse siamo tutti tutti i sacerdoti per cortesia religiosi settari prestate attenzione d'accordo e da voi lo dice frate Giuseppe primo Pietro 2.9 lo dice ma i settari non ci credono che altro c'hai Angelina vedo che ha alzato un titino vado alla prossima domanda posso è da parte di una sorella che dice cari fratelli un credente può permettere che un figlio non credente e non sposato dormi con la sua fidanzata a casa della madre credente come considera Dio questa cosa un abbraccio e grazie per il video mi aiutano a stare più vicino a Gesù Dio vi benedica ripeto un credente una madre credente può permettere al figlio non credente e non sposato a dormire con la sua fidanzata a casa della madre credente questo non è biblico non è cristiano cioè se il figlio non è credente innanzitutto non ascolterà né me né te né nessuno purtroppo e questo qui farà quello che vuole tu come cristiana e la tua casa dovrebbe essere consacrata a Dio c'è un figlio non credente triste evangelizzalo con Gesù col Vangelo con la parola e digli che io e frate Giuseppe lo vogliamo salutare eccetera e lui perché finché finché non credente lui si farà beffe di te dirà che sei una sciocca che tu sei all'antica oggi il mondo è diverso oggi ognuno si veste come gli pare e cambia la sua la sua personalità come vuole e tu sei all'antica e così dicono nel mondo Noè era molto all'antica a costruire un'arca da 120 anni che perde di tempo questo grande giocattolo che per sprecare la vita dei suoi figli e fare un far cosa però Noè si è salvato e gli altri sono morti cioè è sbagliato questo qui neanche dirlo quindi a casa tua non devi permettere in casa di nessuno cioè se tu non sei sposato cosa vuoi a letto con questa paparaccia o questa ho capito cosa vuoi andare a letto con una donna che non è tua moglie che magari la pillola non funziona rimane incinta poi devi anche uccidere il bambino non ne parliamo neanche ci siamo sì cioè cara sorella qui fa tutte le parti qui non deve ricevere in casa tua cioè un momento io non posso dirti non devi che sono io cioè io posso dirti cosa devi fare non posso dirtelo che c'è tutto l'internet che mi corre dietro se dico una cosa così e allora devo dire quello che farei io vedi come sono diventato filosofico capito ho imparato qualche cosa a forza di che mi chiudono il canale ma abbiamo avuto un sacco di chiusure e allora sto diventando non dico più furbo ma un pochettino più scaltro io ho un figlio così direi figlio mio pedalare come devo portare qui a chi una donna che è la tua moglie e vuoi fare qui quello che fai fuori no caro qui non siamo un albergo ad ore sai ci sono l'alberghe ad ore paghi due o tre ore carichi una prostituta dietro l'angolo e allora vai devo aggiungere altro no la risposta è no non devi permettere ma la risposta non devi neanche chiedere queste cose è giusto cioè questo qua non è sposato e vuole portare a casa mia ma figurati anzi guarda già che ci sei digli dormi fuori direttamente guarda guarda torna qui quando comunque guarda non devo dire fai tu come vuoi fare e questo figlio è fuori binario completamente devi evangelizzarlo e poi lui farà quello che vuole amano amano povera donna che se la trascina in giro non sanno dove andare a passare la notte non passano da nessuna parte devo andare dal signore andiamo avanti Dio ti benedica sorella che ha scritto capisco il tuo strazio ancora una domanda e poi mi fermo è da parte di Giuseppino cari fratelli c'è una sorella che è sposata da più di 15 anni con un figlio lei dice che il suo matrimonio è stato un errore il marito lo conosco non è proprio cristiano lui crede ma vive nel mondo non fa mancare nulla né a lei né alla famiglia però è un po' comandante ha dei modi bruschi di fare come padre e padrone ma è anche vero che lei non lo ha mai amato mi ha confidato da quando conosco questa sorella l'abbiamo sempre incoraggiata a seguire Gesù amando il marito come Dio ama noi da due mesi lei ha conosciuto un tizio su facebook che si dice cristiano e lei dice di amarlo e lui ama lei da due settimane lei è andata via è andata a casa dalla madre dopo una litigata con il marito sto cercando con amore di correggere la sorella ma non mi ascolta dice che non riesce a lasciare il peccato di amare questo uomo non si sono mai visti solo messaggi e telefono confido in Dio e nello spirito santo stiamo cercando di salvare questo matrimonio e questa sorella da una fossa profonda che già ci sta dentro cosa pensi Giuseppe di questa situazione? allora questo suo marito cos'è che fa? è un padre padrone e che altro? sì un po' comandante? lui crede in Dio ma vive nel mondo e non fa mancare nulla né a lei né alla famiglia e nient'altro? sì non è adultero la picchia? no, non dice allora mi sembra che la situazione è qui e questa donna deve dare allo specchio e chiedere a Dio che gli dia le insegni che lei possa imparare ad amarlo e se non sente amore cosa deve fare? eh, d'arangi insomma come se non sente amore scusa come se non sente amore io non ho voglia non sento andare a lavorare e pagare l'affitto ma non è che tu segui quello che senti perché quello che senti non è necessariamente da Dio cioè qui non c'è materiale per andare via di casa che perché se noi parliamo col marito qua magari direbbe io ho padrone mica tanto comandante un poco modi bruschi beh io sono così c'è mio carattere cioè lui dirà e direbbe così per cui io mi sa che la colpa è stata da parte di lei perché alzi il dito volevo chiederti una cosa ma l'amore l'amore è vero da parte di Dio non è una scelta? non sono solo sentimenti che vanno e vengono e vanno via l'amore vero è una scelta allora se lei vuole può scegliere noi amiamo Dio perché lui ci ha amati per prima non è che noi ci siamo svegliati un giorno sono innamorato pazzo di Dio ho deciso di diventare cristiano non è così la storia è un po' come eravamo tutti dei criminali dietro le sbarre di una prigione aspettando nel braccio della morte che venisse il nostro turno e poi è passato Gesù e ha detto seguimi metiferò pescatore di uomini e ci ha chiesto se vogliamo essere salvati mi ha detto di sì ancora non capivamo poi lui ha spasso il suo spirito santo e abbiamo cominciato a sentire l'amore di Dio e ci è piaciuto e siamo cresciuti nell'amore verso Dio l'amore è una scelta l'amore è una scelta come anche le perversioni sessuali è una scelta ma io sono nato così va bene impari a diventare cosa va bene perché uno può nascere con un handicap si allena ne esce eccetera e come fa a sapere cosa è giusto o sbagliato la Bibbia il Vangelo i comandamenti quindi Dio benedica Giuseppina e sta cercando il suo matrimonio beh qui c'è bisogno di una liberazione questa qui sappiamo i matrimoni oggi nel mondo sono tutti così infatti però qui siamo davanti a un marito un padre che padre padrone e la moglie dice il matrimonio è stato un errore non dice perché però comunque lui è un po' comandante ma insomma cioè insomma ogni casa ha o dovrebbe avere un comandante o si tratta di comandare nel modo giusto in amore in umiltà però comandare si deve Gesù non è il suo comandante Pietro comandava la prima chiesa Paolo comandava Corinto però c'è il modo di comandare del diavolo e c'è il modo di comandare di Dio quindi di Gesù Gesù comandava però in amore il diavolo comanda però in odio quindi il comandante in se stesso è una cosa neutrale così è un appellativo capito è un titolo io sono il comandante va bene c'è il comandante schiettino schiettino quello della costa crociera che ha fatto affondare la naveri perché era un pessimo comandante e ci sono comandanti che danno la vita invece va bene amèn sì grazie quindi c'è poco da dilungarsi qui no sì va bene così quindi bravo Giuseppino e secondo me io gli parlerei chiaro a questa sorella di dire cara sorella ti vogliamo bene gloria a Dio beh magari parliamo con non so cerchiamo cerca di evangelizzare tuo marito in umiltà in sottomissione illustrando le scarpe non andando lì come la non so la grande profetessa tu non credi alla Bibbia no no vai lì illustrare le scarpe maniera per evangelizzare un marito una moglie illustrare le scarpe cucinare un bel pranzetto se la moglie che cucina oppure portare la moglie fuori a in un posto dove vendono sassicce insomma vedi te cosa che puoi permetterti finanziariamente prendetevi cura l'uno per l'altro lei c'ha figli no si ha un figlio e cosa cosa vuoi andare a cercare e se lei dice che c'è un figlio c'è un marito datti da fare lì no cioè cosa vuoi andare a cercare un altro figlio da un'altra parte no secondo me questa donna è fuori binario anche se lei dice che è una cristiana vera e il marito non lo è una cristiana vera non si comporta così no non è cristiana vera perché è una cristiana ma non vera non so io se sono cristiano vero sto cercando di imparare si quello è il fatto che è un cristiano vero anche se deve fare cose contro la sua volontà preferisce rimanere nella volontà di Dio che ottenere quello che io voglio io sogno per ferire Dio ma non è cristiana si è abbandonato moglie marito e figlio è andato da chi? da sua madre da sua madre però è in contatto con questo uomo è buonanotte già sta commettendo adulterio nello spirito perché lei sta desiderando un uomo che non è il marito lei è in adulterio che nel suo cuore lei ha rapporti spirituali con un uomo a livello sentimentale adulterio quindi questo dice Giuseppini io questo sarebbe per me l'atteggiamento naturalmente si è molto dolce con lei ci sto parlando credo che lei sta seguendo credo che lei sta seguendo e per quello che dico che una vera cristiana ha più timore di Dio nel senso che anche se ottieni quello che tu desideri e l'uomo che tu sogni se Dio non lo benedice sarà doloroso per te non sarà una relazione benedetta sarà una tragedia in base alla Bibbia le promesse di Dio i comandamenti di Dio e quello che Dio dice praticamente sta entrando è una situazione che tu io se tu stai seguendo dolce sorella guarda ti consiglio che stai entrando è una situazione infernale perché in nessun modo Dio se le cose stanno così che il problema del tuo marito è che è un po' comandante è un padre padrone bisogna vedere però se è amorevole però è fedele alla famiglia però è fedele alla famiglia si prende il cuore della famiglia così non ci fa mancare niente ma no no guarda sorella per me sei fuori binario tu devi metterti in ginocchio chiedi a Gesù che ti dia il suo amore perché tu ti metti insieme a un altro perché magari ha più pelo sul petto o magari ti sembra più più dolce più gentile il fiorellino pronto il gelatino sempre no 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 non è così la storia perché se tutto te lo dovessi sposare questo qui altro che padre padrone e modi bruschi magari ci sarebbe di peggio se lui è molto molto amorevole magari sarebbe magari chi lo sa sarebbe amorevole anche con altre donne cioè sorella vacipiano e poi nella Bibbia dice Paolo che bisogna insegnare alle giovani donne di amare il proprio marito è bella quella scrittura can you find that teach the young woman to love their husbands poi l'ha conosciuto su facebook e tu che ci fai in facebook tu sei una moglie tu devi essere a casa a cucinare per il marito pulire la casa insegnare i figli le vie del signore dovresti essere in giro per le strade a cercare pecorella quando vai a fare la spesa quando vai a fare la spesa col bambino senza cioè col bambino per esempio e mentre vai a fare la spesa evangelizza la gente per la strada c'è i volantini quindi già il fatto che te la passi su facebook e già ti vedo sulla via dell'adulterio perché già lo stai commettendo l'adulterio ti parlo in amore perché non ti offendere se mi stai seguendo ti voglio bene sorella ma se te ti sei lasciato la casa il povero il povero marito il bambino con chi è? non lo so con chi è sto bambino? Giuseppino scrivimi dimmi con chi è il bambino hai trovato quella scrittura? dice Giuseppino che il figlio ha 12 anni e cerca di mettere pace tra i genitori mamma mia mamma mia ma guarda sorella io ti voglio bene ma questo bambino è più cristiano di te guarda d'accordo? e dice anche il marito di questa sorella no non è manesco non è adultero lui odia queste cose lui ha modi bruschi ma anche perché lei è fredda con lui per esempio lui lavora tutta la settimana poi torna e vuole la moglie intimamente ma lei non piace come lui fa le cose e si rifiuta lui pretende giustamente io penso ho dato tanti messaggi a lei cristiani prendere la croce seguire Gesù da quando ho conosciuto questo da quando lei ha conosciuto questo su Facebook tutto si è sfasciato un'esca satanica un'esca satanica quindi sorella se ci stai seguendo ti consiglio fortemente di tornare a tutti i passi e di ravvederti perché una moglie che è fredda verso il marito è un po' come la chiesa di Laodicea che è fredda verso Gesù e che non produce figli a Gesù perché è frigida fredda praticamente è una moglie che ha tratto quella scrittura? Sì è Tito 2.4 Tito 2.4 scrivetelo fratelle insegnare alle giovani donne ad amare i loro mariti ad amare i loro figli Tito? Tito 2.4 ecco quindi questa storia delle donne fredde frigide che ricattano il marito un po' come Dalila abbiamo parlato oggi di Dalila con Sansone che faceva finta di amarlo gli dava il sesso con le cordicelle cioè questo non è non è non è il Signore è una cosa satanica donne allontanatevi da queste pratiche sataniche cioè il ricatto sessuale il Signore prima o poi vi ricascherà addosso il Signore lo maledice in che modo il Signore può provvedere a questi mariti una moglie degna una moglie amorevole che prega di amare il marito e che non si rende troppo altolocata quando il poveraccio torna stanco a fine settimana è andato a guadagnare a tirare il carretto e guadagnare i soldi per mantenere la famiglia e trova una moglie frigida che vuole questo vuole quello vuole 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 perché lei ha diritto no questo nel mondo sorella però nel Regno di Dio tu non puoi entrare così guarda nel Regno di Dio le mogli così o i mariti così non entrano ok te lo dico con grande tristezza e il tuo cristianesimo devi controllare se è vero leggi secondo Corinzi 5 per favore secondo Corinzi 13 5 13 5 esaminatevi per vedere se siete nella fede mettetevi alla prova non riconoscete che Gesù Cristo è in voi a meno che l'esito della prova sia negativo secondo Corinzi 13 5 quindi esaminate se siete cristiani non so magari 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 te lo dico con amore sorella non so se seguirai questo messaggio te lo dico con grande amore e magari sei una cristiana nominale magari non hai non conosci veramente chi è Gesù va bene è il mondo che ragiona così il mondo che io ho diritti io ho i miei diritti io valgo no caro no quando una vera moglie Abigail è andata da Davide che Davide l'ha offerto di sposare dopo che Dio ha ucciso suo marito perché era egoista Nabal si chiamava così è primo Samuele così è 26 27 e Abigail era andato da Davide che aveva chiesto in sposa e Abigail ha detto Abigail in immagine della sposa di Cristo ha detto ha accettato di sposare Davide e poi ha detto io sarò la serba delle serve di mio sposo del mio signore va bene oggi con la storia del femminismo e delle perversioni sessuali eccetera cioè qui c'è gente che il paradiso se lo vedrà col binocolo quando ci sarà il momento di entrare al regno di Dio alcuni di questi il Signore gli dirà andate dal vostro siete avete adorato la vostra superbia continuate a farlo ma io confido che sa sorella si pentirà si avvederà cambierà accetterà la sculacciata che è a fin di bene perché lei è una sculacciata per guidarti nel regno di Dio non sono non ho modi bruschi come tu accusi il tuo marito non sono brusco sono ti sto dando la verità perché perché? perché? perché ti amo ti voglio bene non voglio che ti trovi davanti alla porta del regno di Dio e vieni rispinta perché? perché nel Vangelo dice se tu non hai i vestiti giusti i vestiti corretti non puoi entrare nel regno di Dio anzi Gesù dice legatelo mani e piedi e cacciatelo fuori sulla nuova terra cacciatelo fuori sarà lacrime e stridori di denti quindi sorella stai attento a quello che fai guarda guarda se è davanti un bivio puoi distruggere il matrimonio per saltare a letto di questo qui che magari c'è più pelo sul petto oppure puoi metterti in ginocchia davanti a Gesù chiedere al Signore che ti libera dai tuoi spiriti malvagi dopodiché puoi dire sono cristiana adesso non puoi dirlo adesso non puoi dire sei cristiana al massimo sei cristiana nominale che vuol dire vuol dire che non lo sei prego per te cara sorella prego per te che il Signore possa salvare sto matrimonio e ti possa e tu ti possa pentire i tuoi adulteri e i tuoi desideri sbagliati stai desiderando la roba degli altri non ti quell'uomo di Facebook non ti appartiene a chi appartiene a Facebook va bene appartiene alla chiesa di Facebook appartiene a Zuckerberg appartiene non appartiene a testa è una specie di pornografia legalizzata Angelina è sufficiente un ultimo commento da parte di Piera su questa situazione Piera Piera dalle Canarie ciao Piera Cari fratelli questa signora di cui parla Giuseppino deve ravvedersi anche io anni fa avevo problemi con mio marito prima di diventare una credente ma ero io che sbagliavo grazie a Dio che non l'ho mai lasciato lui era un uomo fantastico dolce intelligente eppure io mi ero stancata ma poi mi sono innamorata ancora e siamo stati sempre molto uniti fino alla sua morte potessi verlo ancora con me dare i dieci anni della mia vita ti amo Roberto aspettami gloria a Dio e mi ricordo quando è morto lui grazie Gesù grazie Gesù mi ricordo quanto quanto lei lo amava lo ama ancora ma buone notizie per te cara Piera è in buone mani migliore delle nostre grazie grazie Gesù Angela lasciamo così preghiamo per questa donna signore che non distrugga la sua famiglia e non solo ma che non distrugga se stessa perché il signore si metterebbe sotto le maledizioni tue per aver distrutto la famiglia e anche se so che tu sei in grado di provvedere per questo uomo una moglie degna che non sia frigida e fredda e egoista che quando torna a casa portando i soldi e il sostegno per la famiglia cosa che è abbastanza rara oggi anche i mariti così so che tu puoi provvedere per lui una moglie che è vera signore ma signore la mia preghiera è che questa donna si penta così che quando il grande latin lover del facebook sarà sparito lei si troverà con un pugno di mosche che volendo tornare a casa non la trovi occupata da un'altra donna più degna di lei e allora gli rimarranno solo le lacri amare da piangere per sempre amè Dio ti benedica sorellina fuori binario Dio ti benedica ma che ti benedica con pentimento con frutti di ravvedimento e frutti veri nel nome di Gesù Cristo Gesù Pineda tanto amore a questo marito digli che lo amiamo preghiamo per lui e digli che il Signore stando le cose così il Signore è dalla sua parte e lo benedice e digli di continuare ad essere fedele e di dare a questa a questa moglie è una possibilità di ravvedersi dopodiché il Signore come dice Primo Corinthians 7.15 lui è libero anche di risposarsi Primo Corinthians 7.15 Allora c'è un piccolo messaggio di Gesù che il Signore mi ha dato perché io posso testimoniare che è il solo motivo perché il mio matrimonio ha funzionato io e mia moglie siamo ancora insieme ci comprendiamo e abbiamo perfetta unità su come far crescere i figli ci perdoniamo negli inevitabili errori miriamo ad essere miriamo ad essere rapiti da Gesù insieme mano nella mano in quel giorno ed è solo e questo avviene perché prima ci siamo sposati nel Signore e nella sua opera poi ci siamo sposati uno con l'altra e dopo quella decisione benedetta di mettere il Signore al primo posto non ci siamo mai stancati uno dall'altro e per grazia di Dio mai ci stancheremo perché noi preghiamo di amarci e l'amore sì non è mica cieco non è che lancia frecce cieche no no l'amore sboccia un frutto della preghiera noi siamo tutto tranne che perfetti io e mia moglie abbiamo tante lezioni da imparare ma come chi ci conosce sa recentemente ci siamo risposati voi sapete abbiamo fatto la radio dopo sei figli dopo 25 anni di matrimonio tutti benedetti benedetti nel fatto che abbiamo cercato nel nostro piccolo di servire nella missione per il Signore funziona fratelli funziona amati fratelli lo consiglio a tutti sposatevi nel Signore funziona guarda anche c'è una bella scrittura in Esaia 54 ma la leggi verso 5 Isaia 54 5 poiché il tuo creatore è il tuo sposo il suo nome è il Signore degli eserciti il tuo redentore è il Santo di Israele che sarà chiamato Dio di tutta la terra Isaia 54 verso 5 il tuo creatore è il tuo sposo amén i matrimoni qui sulla terra sono per insegnarci ad essere sposa di Cristo quindi per dire a Dio che non vogliamo essere la sua sposa basta che siamo sposi infedeli chi vuole dire a Dio ti amo Dio ma sposa no è troppo io preferisco la via larga non quella stretta basta che siamo infedeli indegni nel matrimonio che il matrimonio è stato inventato da Dio qui per insegnarci ad essere fedeli nel nostro matrimonio spirituale con Cristo amén e allora teniamo gli occhi verso Gesù gli occhi sempre sulla nostra stella del mattino Gesù amén hai messo questa foto sulla radio sì la stella del mattino sì c'è anche l'immagine di Gesù c'è e c'è anche la stella del mattino amén Angela Apocalisse 22 16 e 17 io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese io sono la radice e la discendenza di Davide la lucente stella del mattino lo spirito e la sposa dicono vieni e chi ode dica vieni chi ha sete venga chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita capito Apocalisse 22 16 e 17 venite venite alla fonte venite alle acque anche Isaia per favore Isaia 2 2 al 5 avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli e tutte le nazioni affluiranno a esso molti popoli vi accorreranno e diranno venite saliamo al monte del Signore alla casa del Dio di Giacobbe egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri da Sione infatti uscirà la legge da Gerusalemme la parola del Signore egli giudicherà tra nazione e nazione e sarà l'arbitro a molti popoli ed essi trasformeranno le loro spade in vomiridaratro e le loro lance in falci una nazione non alzerà più la spada contro un'altra e non impareranno più la guerra casa di Giacobbe venite e camminiamo alla luce del Signore Isaia 2 2 a 5 Amen grazie Signore e il Signore ti ha dato anche una piccola profezia su questo sui matrimoni di essere fatti nel Signore sposati prima con il Signore e allora tutto andrà bene si sono due righe guarda ho preso due appunti di corsa stamattina chiesto a Gesù qualcosa di incoraggiante sul matrimonio Gesù dice non temete le presenti difficoltà sentimentali o matrimoniali che sono per prepararvi ad essere la mia sposa celeste io conto ogni vostra difficoltà e viene il giorno quando capirete che tutto era per il vostro bene i diamanti sono pietre che vengono ripulite fino a che brillano della mia perfezione anche ora voi state venendo ripuliti e sarà fino a che questo continuerà fino a che brillerete per la mia gloria e per l'eternità ma sappiate che io sarò sempre con voi e vi aiuterò sempre non potrete far altro che vincere se solo vi affidate a me con tutto il cuore io benedico ogni matrimonio che è basato in me nella mia parola ma ogni unione che non è in me ma che è del mondo finisce sempre nello spirito del mondo che è distruzione solo in me i matrimoni sono al sicuro come scritto Proverbi 18 10 il nome del Signore è una forte torre il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio Proverbi 18 10 Salmi 56 3 a 4 Nel giorno della paura io confido in te in Dio di cui lodo la parola in Dio confido e non temerò che mi può fare il mortale Salmi 56 3 e 4 Beato quel matrimonio e quella coppia che si sono a me consacrati solo in me il Signore stanno tutte le benedizioni eterne Matteo 6 33 Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più Matteo 6 33 Alleluia grazie Gesù grazie Signore fratelli consolatevi con queste parole grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Gli occhi tuori sono come una colomba ma leste tua è bianca più che neve tu risplendi di gloria agli occhi miei grazie a tutti questa luce lo si oscuri in te tu sei bello mio divino sposo gli occhi tuoi sono come fiamma ardente tu risplendi di gloria nell'immenso il giorno che dal cielo tornerai metti come un sigillo su di me fa che io partenga solo a te nel mio cuore tuoi regni maglio signor al tuo Dio al cuore fa che nella mia vita solo tu sia importante e prezioso mio Gesù mi impegnisca da te resti sempre fedele tra le sfide siedi a piedi miei qui tra gli odili il colore dell'oro prenda le ali il profumo del giglio il tuo cuore oh signore io vedo questo mare gli occhi tuoi sono come una colomba agitarsi nel vento la tempesta la testa tua è bianca più che neve resta ancora con me non mi lasciare tu rispetti gloria agli occhi tu conosci le asti miei timore lo scuro in te metti come un sigillo su di me fa che io mi attenga solo a te e il mio cuore lo prendi ma io si vuoi altro Dio altro fa che nella mia vita solo tu sia importante e prezioso mio Gesù niente mi separa aiutare da me a 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 me metti come un sigillo su di me fa che io a me venga solo a te e il mio cuore lo prendi ma io signore altro Dio amore fa che nella mia vita solo tu sia importante e prezioso mio Gesù niente mi separa da te niente mi separa mai 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 da te niente mi separi mai da te mi a me a me a me a me a me Grazie.